le visioni qui nel bosco sono diverse e questa è appena apparsa tu centri qualcosa le visioni sono cambiate è quella che ha ispirato il capo e carro altre parole dei predecessori udite le parole che riunirono un popolo dopo i tragici eventi della guerra han faraday architetto a capo dello sforzo di riconciliazione rivolse parole di speranza alla nazione se guardiamo al futuro memori del recente passato la paura c'è sale guerre tra uomini e macchine scarsità di cibo e acqua tempeste che ci privano delle nostre case ma il vero coraggio è affrontare queste paure determinati e senza cinismo guidando la pacificazione con queste donne e questi uomini valorosi questi marescialli del nuovo sud ovest ci hanno dimostrato che quando ci uniamo per perseguire uno scopo non c'è minaccia che tenga unitevi unitevi a noi se credete di poter costruire essere una nazione e un mondo di prosperità e pace e e e e a disposizione comandante io vengo con te ma e carlo ha bisogno di te per fortuna a nuovi marescialli è un grido di guerra che potrà unire i clan ti accompagnerò nella tua missione darò quel che mi resta da vivere è la mia scelta come posso mai rifiutare il mio amico vuole unirsi a noi incontralo ai piedi della montagna e portalo alla nostra base certo a noi raggiungi i monti a ovest di canto puro una persona fidata ti aspetterà torno appena posso una persona fidata interessante